Quando è che è caduto il governo giallo-verde? Quando Danilo Toninelli stava portando in Consiglio dei Ministri un decreto che toglieva dalle leggi dello Stato quei contratti e li faceva finire davanti ai tribunali. Dopo tutto quello che sta succedendo in questi giorni, io vi posso dire due cose. La prima è che ormai manca poco e glieli togliamo queste concessioni, questi contratti. La seconda è che bisognerebbe chiedere scusa a Danilo Toninelli. Grazie a tutti.